Benvenuti. Oggi siamo con la professoressa Mila Spicola, insegnante esperta in politiche scolastiche che da anni si occupa di scuola anche con impegno politico. Benvenuta professoressa. Salve a tutti, grazie. Professoressa Spicola, la scelta della famiglia finandese arriverà nel dibattito sul modello di scuola italiana e sui suoi limiti. Quali sono, secondo le priorità della scuola, che ancora ci ostiniamo a non capire? E allora, intanto il dibattito suscitato dalla lettera della mamma finlandese è stato molto positivo perché ha suscitato così tante reazioni, così tante riflessioni, che l'effetto di riflesso positivo è quello di farci parlare di scuola, di farci parlare in tanti di scuola e anche dandoci una prospettiva diversa, cioè come guardandoci allo specchio. Perché? Perché lo sguardo della mamma finlandese non è stato tanto la critica in sé, quanto il fatto che ha paragonato due sistemi. Ora, al di là, diciamo, della gara tra due sistemi, due paesi così diversi, che ovviamente lascia che il tempo che trova, la cosa che invece, diciamo, noi dobbiamo prendere di buono da tutta questa faccenda è la riflessione su noi stessi, no? Non tanto nel confronto, quanto proprio nel capire che magari ci sono delle cose nel nostro sistema che non vanno, e lo sappiamo tutti, ne parliamo sempre, no? Docenti, genitori, sappiamo bene quali sono i problemi del nostro sistema di istruzione, però questa volta c'è stato uno sguardo diverso, differente, esterno, come se ci fosse stata una prospettiva divergente. L'altra cosa che poi dobbiamo, diciamo, ricordare è che in realtà questo sistema finlandese, di cui possiamo dire bene, possiamo dire male, possiamo approfondirlo, possiamo criticarlo, in realtà nasce da riflessioni, considerazioni, sperimentazioni e anche esiti didattici e pedagogici che discendono da tutta una filone di pensiero e di esperimenti e di attività nell'ambito della scuola che fanno capo a due grandi pedagogici che sono italiani, cioè sicuramente Maria Montessori e Mario Lodi non è che dicessero cose così diverse rispetto a quelle che la mamma finlandese trovava normale nella sua scuola, quindi anche questo ci deve far riflettere. E allora il problema posto in quella lettera non era tanto sistemico di strutture, cioè la scuola italiana è povera di mezzi, povera di risorse, ma diciamo è stato criticato l'approccio, un approccio che in realtà è nostro, quindi su questo noi dobbiamo riflettere come docenti, come dirigenti, come genitori, tra l'altro è un approccio che ha dei grandi esempi, fin da piccolissimi anche l'esperienza dei nidi di Reggio Cilden, segue quell'impostazione lì, che è un po' diciamo, semplificandola qual è? Quella di rispettare l'individualità del bambino, del ragazzo, della sua crescita, di rispettarlo così tanto da, diciamo, porsi più in una situazione relazionale che didattica, per cui dando priorità, che poi sono cose che sappiamo, non c'è niente di nuovo, però sappiamo che in realtà poi nella quotidianità delle nostre scuole non è una pratica corrente, magari non ci riusciamo, quindi diciamo io non vorrei estremizzare, no? E' bellissimo quello, è bruttissimo quello è il nostro, no? Noi abbiamo tante luci, abbiamo tante ombre e lo sappiamo, io vorrei solo che fosse motivo di riflessione, di riflessione su temi che abbiamo messo in campo noi. Ecco, appunto diciamo, motivi di riflessione, al di là dei modelli scolastici, educare diventa sempre più difficile, lo sanno bene gli insegnanti che quotidianamente entrano in classe, sempre più complicati da gestire. Ne sono sempre alcuni episodi anche di cronaca recente, relativi ad aggressioni a docenti e compagni di classe. Quali interventi sono necessari per educare i nostri allunni, non solo alla conoscenza delle materie, ma anche al rispetto reciproco per crescere in una società più sana? Allora, io qui non voglio dare ricette, non le so dare, nessuna di noi le sa dare, però posso raccontare la mia esperienza, perché la mia esperienza di insegnamento, a parte qualche supplenza iniziale, si è svolta tutta in scuola a rischio. E io mi ricordo docente neofita, perché io sono una docente disciplinare della secondaria di primo grado, quindi ho scontato tutte le carenze didattiche e pedagogiche, l'assenza di un tirocinio. Io mi sono ritrovata in classi di scuola a rischio, con bambini molto complicati, e io piano piano ho preso consapevolezza di tante cose, ho sentito anche la necessità di confrontarmi con i miei colleghi, di vedere come lavoravano nelle classi, di studiare, di approfondire, perché non è vero che solo l'esperienza in classe poi ti dà l'esperienza per lavorare, eccetera, eccetera. Quindi io, l'esperienza della collega, con la quale mi sento di solidarizzare in pieno, quell'esperienza lì per me era quotidiana, di ragazzini che tiravano le sedie, di situazioni veramente complesse. Sono figlia di due maestri, che sono stati tutte e due maestri in scuola a rischio, per cui la mia fortuna è stata anche quella di arrivare a casa e confrontarmi con due grandi pedagogisti, perché dopo 40 anni di insegnamento in quelle aree, io ho avuto la possibilità di avere dalla diretta voce loro un po' di indirizzi e di direzioni, intanto sicuramente sollecitarmi allo studio e alla riflessione didattica e pedagogica. E poi alcune, diciamo, frasi, alcune cose semplici che non vogliono però essere una regola per le colleghe, cioè considerare sempre che non esistono ragazzi difficili, ma ci sono situazioni difficili. Noi abbiamo a che fare con individui in crescita, sia in luoghi complicati, sia in luoghi meno complicati, però voglio dire, anche una famiglia borghese può essere un luogo complicato se un ragazzo ha delle problematiche. Anche un gruppo di pari adolescenti che cominciano ad avere dei comportamenti non corretti tra di loro può essere una situazione difficile. E allora come si agisce in quelle situazioni? Si agisce, io mi ricordo mio padre mi diceva, io dicevo papà ho chiamato il genitore, mi disse una volta Mila fai finta che questi ragazzi, questi bambini, i genitori non ce l'hanno e che tu ti devi trovare a mostrare soprattutto, non a dire, ma a mostrare come devono comportarsi e prendili per mano anche nei momenti più drammatici. Io sono stata presa e lanciata contro un muro da un ragazzino difficile. Cioè, sembra banale dirlo, però in realtà è così. Qualunque essere umano nel momento, diciamo, della devianza, della difficoltà, vuole essere ascoltato. Quindi, la scuola è il luogo in cui noi conduciamo per mano degli individui piccoli per diventare cittadini. I saperi sono strumentali a questo. Quindi io quando entro in classe, devo insegnare la grammatica, la geografia, la mia disciplina, eccetera, eccetera. Ma non devo perdere mai di punto di vista l'obiettivo, che è quello che io devo trasferire in questo ragazzo, soprattutto obiettivi sociali e civili. Quindi, quando io insegno Socrate, devo insegnarglielo, lui me lo deve ripetere, ma perché lo ha compreso e perché sa che di fronte è una persona che lo comprende. Ora, questa, diciamo, posizione ovviamente non sempre funziona, perché io avevo tante classi, l'insegnante di scuola media, tante classi, in alcune classi funzionavo, in altre non funzionavo. Quindi, diciamo, nonostante lo stesso approccio. Però io penso che, tra l'altro, oggi non sono più difficili di ieri. I ragazzi sono sempre gli stessi e i bambini sono sempre gli stessi. Siamo noi adulti che diamo degli esempi forse più deviati, più distanti, più isterici. Fuori dalla scuola la società è molto stressata socialmente. Quindi, diciamo, dobbiamo lavorare su più livelli. Sicuramente l'aggiornamento professionale e sicuramente il metterci con calma, con pazienza, senza mai alzare la voce, a livello di quei ragazzi, per guidarli, ovviamente, mai, per essere amici o alla pari, ecco. Ecco, professoressa Spicola, abbiamo anche una grave carenza di strutture scolastiche adeguate. Ne ho ad esempio la soluzione adottata durante l'emergenza pandemica, dove era obbligatorio mantenere aperte le finestre anche in pieno inverno, con la conseguenza dei veri classi freddi. Perché nel nostro paese è così difficile programmare una vera riqualificazione scolastica? Questa è veramente una problematica, diciamo, complessissima. È stato uno dei miei, come dire, pensieri nel mio impegno politico, questo del recupero strutturale e dell'edilizia scolastica. Noi abbiamo una situazione strana, cioè, in realtà, le risorse sull'edilizia scolastica ci sono, e sono anche ingenti. Ci sono risorse italiane, ci sono risorse di bilancio, ci sono risorse adesso del PNRR, però abbiamo un caos di competenze. L'edilizia scolastica fa in capo al Ministero, quindi centralmente allo Stato, alle regioni, ma soprattutto ai comuni. I comuni spesso non hanno il personale, diciamo, sufficiente per agire. E poi ogni progetto, e poi ci sono, diciamo, le competenze del dirigente scolastico, che magari sono quelle di manutenzione ordinaria. Ogni attività più grossa, ogni attività edilizia, ogni intervento edilizio più grosso, ha bisogno poi di gare. Quindi entriamo di nuovo in altre lungaggini. Quello che io penso è che, a fronte oggi di ingenti finanziamenti, dovremmo tornare a quello che c'era stato per un po', cioè una struttura di missione unica che coordini tutta questa attività, oppure un'agenzia unica come quella del demanio, in modo che laddove ci sono carenze locali o inefficienze locali, si agisce in forma suppletiva. Consideriamo anche l'entità del patrimonio edilizio. Noi parliamo di 47 mila edifici, più o meno. Quindi parliamo di una situazione enorme, come svuotare il mare con un cucchiaino. Però, diciamo, da qualche parte si deve iniziare. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. Negli ultimi 20 anni ci sono stati più o meno quattro riforme scolastiche, ma nella scuola manca ancora una visione di prospettiva, schiacciata tra una tradizione centiliana che oscura anche i figuri autorevoli di casa nostra, come le accettate anche le prime, Montessori, Don Milani, Mario Lodi. Ma è possibile veramente cambiare la scuola italiana? Questa è una bellissima domanda. Intanto noi sappiamo che non esiste la scuola italiana, esistono le scuole italiane, no? La scuola del nord e la scuola del sud, che hanno impostazioni, approccio, contesti completamente diversi. La scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, la scuola superiore, le scuole tecniche professionali, le scuole licei. Cioè abbiamo tanti ambiti e tanti approcci. Però c'è una cosa che dicevi tu, che è importante. Cioè manca una visione. E allora il modello scolastico, gli obiettivi, la missione, la visione di lungo periodo, la valorizzazione quindi, che dovrebbe essere condivisa, dipendono sempre dal modello sociale che noi abbiamo. E di conseguenza, allo stesso modo, viceversa, il modello sociale che noi abbiamo dipende anche da una scuola che abbiamo. Secondo me qualunque riforma deve prima intendersi sul modello sociale e sul modello di scuola che noi vogliamo. Vi faccio un esempio. Gli anni 70-80, cioè tra la fine degli anni 60, inizi anni 60-70-80, vengono considerati il momento d'oro del riformismo scolastico, quello della scuola democratica. Abbiamo la riforma della scuola media unica, quindi l'idea che tutti i bambini, tutte le bambine, tutti i ragazzi e le ragazze avevano diritto a poi scegliere quello che volevano, però in maniera, come dire, completa, senza essere subito instradati in scuole tecnico-professuali, nel lavoro o in manuale oppure nel lavoro. Poi abbiamo avuto i decreti delegati, la grande stagione democratica, poi abbiamo avuto la riforma dei moduli, che è stata un'altra grande riforma partecipata dal basto, perché venne, diciamo, affrontata con grandi periodi, lunghi periodi di sperimentazione nella scuola. E allora, che cosa ci insegna quel periodo d'oro? Intanto che le riforme non si fanno sulla scuola, ma con la scuola. Con la scuola. Qualunque riforma di regista è naufragata. Ma è ovvio, perché se non ci intendiamo sul perché noi stiamo facendo, stiamo cambiando delle cose, e non lo facciamo sperimentare a noi docenti, pur con i conflitti, con le perplessità, con le cose, quella riforma sarà sicuramente sbagliata, anche con le migliori intenzioni. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che il dibattito va fatto prima sugli obiettivi e sul modello di scuola. Il modello democratico è quello inclusivo ed è molto diverso dal modello gentiliano, che è quello invece di esclusione. E allora, quando noi parliamo di lezione frontale e diciamo che è un modello gentiliano, cos'è? Che noi siamo contro la lezione frontale in sé? No, perché in certi momenti la lezione frontale serve. Però noi sappiamo che non sempre riesce a includere tutti i nostri alunni e alunne dentro la classe, dentro quella lezione. E allora servono altre attività. Quindi le strumentazioni didattiche, le diverse metodologie, non servono perché è una moda. Non devono discendere dalla moda del momento. Io faccio la classe capovolta, io faccio la flipped classroom, io adotto il tablet, sono tutte cose meravigliose. Ma prima a monte ci deve essere il perché, la consapevolezza del perché io sto facendo quella cosa. In un momento della giornata mi servirà una lezione frontale. se io voglio trasmettere, non so, un attore che recita Dante, Benigni, può anche capitare, no? Vi voglio far sentire questa bellissima cosa fatta. Quella è una lezione frontale. Ma quello che segue dopo, magari la riflessione comune, oppure se vedo un alunno che si distrae, che vuol dire che non è stato preso da quella cosa, deve essere io consapevolmente a capire qual è la metodologia per portarlo a quell'obiettivo. Quindi gli obiettivi, gli strumenti e cose, noi possiamo cambiarli, innovarli, ma a monte ci deve essere il modello che noi vogliamo. Quello che noi abbiamo deciso è quello della scuola democratica che libera e toglie tutti gli ostacoli per il pieno sviluppo della persona umana. Quindi, sta scritto già lì, non è neanche questione di destra o sinistra. È un'indicazione costituzionale che viene addirittura prima degli 33 e 34 sulla scuola. E per togliere tutti gli ostacoli, a volte dobbiamo un po' rinnegare noi stesse, che magari quel giorno chissà perché vogliamo fare quella cosa, e cercare di capire perché quel ragazzo lì è come se fosse assente. E cercare di portarlo a noi perché l'obiettivo è rimuovergli gli ostacoli, non che io faccio la lezione bellissima. Grazie professoressa Stigaro che siete stati con noi. Vi ringrazio molto, a voi.